Il genovino clandestino e tutti gli andati a zappa risostengono che a nutrire il pianeta ci pensano i contadini che all'attualità producono il 70% del cibo a livello mondiale. Quindi non sono le multinazionali, non sono i grossi gruppi che sono presenti all'Expo a nutrire il pianeta ma una miriade di piccoli contadini che a fatica cercano di sopravvivere e di portare avanti e di continuare a esistere anche in Italia. È una cosa assolutamente difficile perché la piccola agricoltura contadina è progressivamente schiacciata dall'agricoltura industriale che è sistematicamente sostenuta dalla politica degli Stati e dell'Unione Europea. Grazie a tutti i nostri spettatori.